Cina cina, cina cina, cina cina cina, cina 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 Ciao ragazzi, ciao, vedete chi ho vicino? Allora, Stefania e Alvaro vi aspettano il 24 giugno al caffè Farini in San Pietro in Vincoli a Ravenna con un grosso saluto da parte nostra, vi aspettiamo in tanti, guarda siamo veramente in attesa non vedo l'ora che venga, un saluto principalmente al gestore, Francesco, wey Francesco siamo lì eh A presto, vi raccomando, è venuto